Ciao amici, oggi parliamo del gioco nerd per eccellenza, cioè il Miller gioco tattico, strategico e informazione completa che ha catturato la mente di matematici, scienziati, informatici per millenni, e cioè gli scacchi ovviamente. Gli scacchi sono un gioco che sicuramente, quantomeno per nomea, conoscete. Uno dei giochi sicuramente più complessi che richiedono più studio per essere masterati, dei quali si svolgono campionati mondiali da ormai quasi 200 anni, il cui campione in carica vediamo oggi Magnus Karsen, che ha organizzato questo Magnus Karsen Invitation, cioè un torneo tra super grandi maestri, con vittoria in soldi, in realtà in questo caso il premio serve anche per la ricerca spaziale, quindi sicuramente la roba più nerd che sentirete oggi. Ma il gioco che andiamo a vedere oggi, la partita che andiamo a vedere oggi, è del 15 marzo 2021, tra Magnus Karsen, norvegese, campione del mondo, e Icaro Nakamura, di cui dopo parliamo, è un po' particolare. Diciamo che è una partita a meme, e per questo è importante, cercherò di spiegarvi un pochino perché. Allora, intanto vi faccio vedere i due giocatori che vedete sopra lì, nel video, dopo vediamo questo video proprio. Magnus Karsen e Icaro Nakamura stanno giocando ovviamente in dub, mi sembra evidente. E adesso andiamo a valutare la loro partita, e cerchiamo di capire perché hanno giocato così. Comunque sia, Icaro Nakamura, non so se lo conoscete, è un campione di scacchi, uno forse il più forte giocatore di bullet e di blitz, cioè le due categorie di partite che si giocano, diciamo, sotto i 5 minuti di tempo a giocatore. Mentre Magnus Karsen è sicuramente il più forte di sempre nel gioco classico, cioè quello che avete visto nella regina degli scacchi, le partite lunghe, lunghe, lunghe. In questa partita, e questa è una cosa molto importante, in questo torneo erano entrambi già classificati alla seconda parte del torneo. Ok? Succede una cosa particolare nella partita, che adesso andiamo a vedere, siamo su frizze. La partita dura 6 mosse. Allora, come si gioca al scacchi adesso? Se non avete la minima idea degli scacchi, mi spiace per voi. Poi, se avete un minimo di conoscenza, sapete che le prime mosse della partita, la fase che si chiama apertura, ha lo scopo di controllare, adesso come si fa a farvi vedere, comunque queste 4 caselle, quelle che si chiama centro. Perché una volta che si controlla il centro, si può procedere con l'attacco e arrivare fino allo scaccomatto, scatturare i pezzi. Se non si controlla il centro, è molto facile venire attaccati dall'avversario. Quindi vi faccio un esempio di una classica partita. E4, il pedone controlla queste case. E5, classica risposta. Contro bilancio contro le altre case della parte del giocatore bianco. Poi da qua si può continuare in vari modi. Ad esempio, si può sviluppare il cavallo, che andrà ad attaccare case su cui poi l'avversario non potrà mettere le sue pedine, eccetera, eccetera. Un comportamento strano sarebbe ad esempio aprire così, ok? Non che sia vietato, ma non si controllano le case al centro, quindi si dà possibilità all'avversario di iniziare a controllarle e quindi di fregarci. Come giocano il più forte giocatore al momento disponibile sulla piazza e il più forte giocatore di Rapid sulla piazza? E4, E5, classico controllo del centro. Re in E1, in E2. Questa apertura, che qua non viene riconosciuta EcoC20, 1.4 e 5 unusual white second moves, si chiama, in verità, ha un nome e si chiama Bong Cloud. Cercatela anche su Wikipedia. È una apertura, Bong come Bong, cioè diciamo il Bong, per intendersi, è Cloud come nuvola ovviamente. Ed è un'apertura totalmente stupida per vari motivi. Perché si muove il re, quindi non potrà fare arrocco, che è una delle mosse più importanti dal punto di vista strategico della partita. Si blocca completamente le diagonali di sviluppo della regina e dell'alfier bianco. E in più il re viene esposto agli attacchi dell'avversario. Quindi è sostanzialmente, se voi vedete, andate a vedere, io dopo, siamo in parità, il computer dice che siamo a 0 dopo la prima mossa, ok? Dopo la prima, questa mossa qui, il nero sta già vincendo di un punto e 32, cioè avanti di un, solo per aver fatto questa mossa, è come se avesse catturato un pedone e un po' di più. E quindi, tra due super maestri e super grandi maestri, è molto probabile che il nero se ne approfitti molto semplicemente, molto facilmente. Ma qua Nakamura, e dopo lo vediamo nel video, inizia a ridere, perché questa è una delle sue aperture meme quando fa gli stream. E quindi risponde, re e 7, sostanzialmente fa la stessa cosa, infatti se notate la partita torna in parità quasi come punteggio. Questa mossa ovviamente non ha alcun senso logico, perché si perde tutto il vantaggio che si era acquisito. Ma, come continua la partita, il re di Karsen torna indietro, il re di Nakamura torna indietro, ripetono le mosse. E la partita finisce in una patta per ripetizione di tre mosse, regola degli scacchi, introdotto da non molti anni. In sostanza, se si ripete una mossa tre volte, la partita è pareggio. Questa mossa qua, cioè questa apertura, è proprio un'apertura meme. E stavo pensando prima a qualche esempio per spiegare a chi magari non conosce gli scacchi quanto è far ridere questa cosa. Perché comunque stanno giocando un torneo serio, in cui ci sono un paio dei soldi, un punteggio, eccetera, eccetera. Perché hanno pattato? Perché erano entrambi già classificati con una buona posizione al turno successivo. E quindi il risultato qualsiasi sarebbe andato bene. Hanno deciso di farlo con stile. Io mi immagino come se in una partita, non so, Italia-Spagna dei mondiali di calcio, sono entrambe classificate dopo la fase a gironi, e invece di giocare una partita normale, si mettono a giocare a Torello per tutto il tempo in mezzo al campo. È la stessa cosa. Cioè, così. Perché l'hanno fatto? Perché, vabbè, potevano pattare in altri modi. Questo è sicuramente il modo più stiloso per farlo. Quindi l'hanno fatto sicuramente per i meme. Seconda cosa, non hanno giocato una partita per non spoilerare tattiche che avevano studiato appositamente per il torneo. Metti che Nakamura e Carson si reincontrino in futuro, non volevano appunto che l'avversario capisse quale strategia e tattica avrebbe usato poi in futuro. In più, è un modo per riposarsi. Hanno fatto una partita di sei mosse, senza doversi impegnare, senza quegli estenuanti finali di partita che ci fanno impazzire. Andiamo a vedere, per finire, il video, dove appunto si vede qua lo streaming della partita, con il commentatore, vedrete dopo anche una commentatrice, che ci credono molto, devo dire, in queste cose. Vediamo cosa dicono i nostri eroi. Notate ovviamente la faccia dei due. Nakamura si mette a ridere. Non ce la fa più. E i commentatori vanno in visibilio. Stanno malissimo, stanno malissimo, non ce la fanno più. È la partita del secolo, sanno di aver scritto la storia. Pazzesco. È molto bello vedere questi due giocatori che hanno un figlio come questo. Abbiamo visto quelli combattere, e abbiamo visto quelli che si può perdere il Magnus Carlsen-Cesto final. Abbiamo visto alcune battaglie epiche tra i due. Questo è solo una gioca. Torniamo di qua. Allora, i due giocatori, in verità, nella loro vita, avevano avuto vari alterchi, che potrete andare a cercarvi su Indra. Ci sono vari content creator che trattano di scacchi. Sia in Italia ce n'è uno, ce ne sono due in particolare, sono Matto Scacco e il circolo scacchistico pistoiese. Mentre tra gli internazionali c'è sicuramente Agadmator, di cui sicuramente avrete sentito parlare perché è stato il canale bloccato dall'algoritmo di YouTube, che è un canale croato, mi pare. Mentre tra gli inglesi c'è ovviamente Icaro Nakamura, quello che avete appena visto giocare, che è uno streamer molto molto famoso e anche un canale a YouTube che fa molto ridere. E Gotham Chess, Levi Rosman, che è un maestro internazionale che fa i recap anche di questi tornei e spiega un po' le varie cose. Se vi è fatto ridere e se avete magari capito dove sta il meme, è difficile capire perché fa tanto ridere se non conoscete bene il gioco di scacchi, ma altrimenti vi assicuro che è la partita più bella degli ultimi cento anni. Noi ci vediamo a una prossima partita di scacchi. Ciao.